Per numero 13 giorni, per numero 14 giorni, per numero 15 giorni, per numero 15 giorni. Di mano, bambini, piccioni, figliore, grimo, sorprimi, cartetti, manari, via, saggiano, minuti. In campina con il numero 19 di sbilizi, con il numero 14 di sbilanzi, con il numero 14 di sbocchietti, con il numero 15 di sbilanzi, con il numero 16 di sbilanzi, alleatore del signor Giorgio Ravigliani. Polizio! Polizio! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.